Non ci indurre in tentazione nasce nel 2007-2008 quando stavo girando un cortometraggio insieme a Lorenzo Berti, il cortometraggio si chiama William Wilson, sempre per la mia regia e durante la fase di divisione di questo cortometraggio, mentre lo stavamo facendo vedere un po' al pubblico che erano soprattutto amici e parenti, il risponso più importante che veniva fuori dalle persone che guardavano questo corto, quindi i commenti che ci facevano più spesso erano questi, sembra l'inizio di qualcosa di più lungo, finisce dove dovrebbe iniziare e quindi Lorenzo mi lanciò una provocazione e mi chiese perché non li accontentiamo, perché non accontentiamo il pubblico. Questa provocazione mi stuzzicò perché era un'idea fattibile da realizzare, un incipit interessante mantenendo le stesse caratteristiche del cortometraggio, quindi un unico attore all'interno di un'unica location, di un unico ambiente con la tematica del doppio sempre presente alla base della storia. L'elemento importante del film era quindi la location e mentre eravamo alla ricerca appunto del luogo ideale dove ambientare la storia, mi è venuto incontro Michele Martini, produttore esecutivo del film, con questa casa di campagna, questo è un'idea fattibile, quindi ispirandomi un po' a Kubrick e al suo Shining ho pensato che poteva essere la cosa giusta poter far dormire, quindi far alloggiare la troupe per tutta la durata del set, dei giorni di riprese all'interno di questa location. Non ci indurre intendazione non è stata la prima ipotesi di titolo del film, perché infatti fino alla fase di post produzione e poi anche di promozione e distribuzione il film aveva un altro titolo che era Ecce Coelet, che poi insieme a Lorenzo Lombardi abbiamo deciso di cambiare per cercare qualcosa che potesse essere più diretto e più facilmente comprensibile anche per lo spettatore. La scena più impegnativa, più difficile da girare è stata sicuramente la scena della cena, sul finale del film, che è poi un po' la scena madre, la scena cardine di tutta la storia. È stata difficile per vari motivi, un po' per l'attenzione che si respirava nel set, appunto perché sapevamo che era una scena importante e anche perché all'interno c'era un effetto di compositing da creare che consisteva nello sdoppiare l'attore in due, quindi nel mettere in scena i due personaggi protagonisti della vicenda che erano interpretati da Lorenzo Berti. L'interpretazione di Lorenzo Berti è stata sicuramente valida e di gran livello perché non era facile interpretare comunque due ruoli, due ruoli di questo tipo, quindi due ruoli antitetici, in questo modo mantenere sempre anche alta la concentrazione e poter anche calarsi nella parte in modo repentino. Succedeva spesso nel set che doveva togliere i panni del seminarista e trasformarsi subito nel suo opposto, nella tentazione che era più schizofrenica, più esuberante come parte.